Caterina Ballivo Caterina Ballivo ritorna detto fatto, il suo annuncio Caterina Ballivo è finalmente pronta a riprendere il timone di detto fatto, la mora conduttrice infatti tornerà in televisione fra qualche giorno, precisamente lunedì 2 ottobre. Su social, Caterina ha postato una bellissima foto in cui è intenta a saltare e ballare a piedi scalzi su un divanetto bianco, e nella didascalia dellimmagine ha scritto queste parole. Quelle giornate in cui ti svegli super carica e piena di nuove idee per affrontare la giornata lavoro perché si è sto tornando. Ci vediamo in tv lunedì 2 ottobre ha detto fatto. Inoltre la Ballivo ha rivelato che la foto caricata sul suo profilo Instagram è uno degli scatti provenienti dal servizio fotografico fatto per la copertina di chi, in cui ha rilasciato anche uninteressante intervista. Dalle parole scritte dalla conduttrice sembrerebbe proprio che si sia già messa all'opera, e che si sia già recata agli studi Rai per provare il suo ritorno in tv, previso per il prossimo lunedì. Caterina riprende il timone del programma di tutorial esattamente un mese e mezzo dopo aver partorito la piccola Cora, che è nata appunto a cavallo tra la notte di ferragosto e il 16 agosto. Caterina Balivo torna detto fatto lunedì 2 ottobre, l'annuncio su social. Caterina Balivo ha poi trascorso i giorni successivi al parto sempre insieme ai suoi figli e a suo marito, la conduttrice di detto fatto si è infatti mostrata sui social ultimamente nel ruolo di mamma, accompagnando il primo genito a scuola e cullandola neonata. Per Caterina comunque è giunto il momento anche di pensare al lavoro, Serena Rossi, che aveva preso il suo posto all'interno della trasmissione di Rai 1 durante la gravidanza, è infatti pronta a lasciare il posto alla vera padrona di casa. Su social, tutti i fan della Balivo hanno ricoperto la conduttrice di complimento per il servizio fotografico fatto per chi, e inoltre hanno palesato la loro gioia per il suo ritorno in televisione. . .